Sul nostro cuore, perché è proprio la vita, che escono le dimensioni nuove e fatiche. Custodire la gente e aver cura di ogni persona. Questo il primo forte messaggio di Papa Francesco nel giorno di inizio pontificato. Ma soprattutto, davanti alle 160 delegazioni straniere, chiede di non lasciare che segni di distruzione e morte accompagnino il cammino del nostro mondo. Custodire è la parola chiave di questa omelia, ma il primo pensiero è per Ratzinger, che segue l'evento da Castel Gandolfo nel giorno del suo nomastico. Sono arrivati all'alba gli oltre 200.000 fedeli, sventolando le loro bandiere e soprattutto quelle dell'Argentina. I colori del mondo riempiono Piazza San Pietro già dalle prime ore della mattina. Il Papa argentino, che è abituato dall'inizio i suoi fedeli ai colpi di scena, ha fatto il giro della piazza a bordo della Jeep bianca, salutando la folla. Tutto è perfetto e l'organizzazione è efficiente. Intorno al Vaticano la zona è blindata e bloccata. Sacerdoti, viscovi, suori e cardinali hanno fatto il loro ingresso solenne e scandito dal coro della Sistina e dell'Accademia. Papa Bergoglio, con la sua talare bianca e l'anello del pescatore in argento, appare come l'emblema della semplicità. Un lungo applauso accoglie la benedizione finale di Papa Francesco. Dopo il raccoglimento e la preghiera, da Piazza San Pietro si innalzano urla di giubilo per il Papa, che ha già segnato la storia della Chiesa.